Mi hanno dato dei numeri che si parlano di 100-200 utenti al giorno, quindi è fondamentale che questo ufficio rimanga in piedi, che questo ufficio continui a operare perché c'è una parte sia anche sociale, perché le persone anziane riescono ad andare in questo ufficio, riescono ad avere dei consigli, ma poi c'è una parte veramente operativa dove le persone fanno depositi. A me quello che ha fatto rimanere molto male è che le poste non mi hanno dato nemmeno dati, non sanno nemmeno quello che stanno chiudendo e questo è grave, molto grave. Io ho chiesto aiuto a tutti, al nostro onorevole Mauro Ottobre che ho visto ci ha raggiunto, al senatore Vittorio Fravezzi. Noi vogliamo che questo ufficio rimanga in piedi, non è un capriccio, io non sono quello dei capricci che vuole tenere le cose che non possono essere aperte, però lo desideriamo fortemente e andremo avanti anche nei prossimi giorni finché qualcosa non arriverà da poste e non inizieranno a metterci la testa e a ragionare. Sì, noi è dal 2010 che abbiamo fatto degli incontri periodici, abbiamo sempre messo le risorse a bilancio, abbiamo anche proposto un ufficio più piccolo, la nostra è stata una massima di disponibilità, dall'altra parte non ho trovato serietà, anzi ho trovato numerosi incontri, negli operatori che lavorano nei posti ho trovato grande serietà, ma nell'interlocutore alto, quello lontano, quello che non si occupa della gente non ho trovato risposte, anzi ci hanno fatto perdere moltissimo tempo, ma per me non è tempo perso perché quando si investe su avere un servizio di questo tipo è fondamentale, però non sono mai arrivate risposte, il comune c'è, l'amministrazione c'è in tutti i modi, poste non c'è. Ho apposentato un'interrogazione parlamentare precisa e puntuale sul tema, non solo per le poste qua di Bolognano ma anche per tutto il Trentino, io credo però che anche i cittadini devono fare la sua parte, devono iniziare a estinguere i libretti al portatore delle poste come insieme di protesta anche e magari trasferirle nelle casse rurali che quantomeno abbiamo un ristorno sociale sul territorio importante.